Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi vi parlo di FC Mobile, che è la nuova versione, chiaramente, di FIFA Mobile, esattamente come EA FC24, perché è uscita la beta e vi spiego come potete averla gratuitamente nel vostro telefonino. Esattamente come ho fatto io, vi faccio un breve tutorial perché è veramente, veramente banale. Alcune piccole info, FC Mobile 24 dovrebbe essere rilasciato all'aggiornamento verso metà fine settembre, La beta attualmente è gratuita ma disponibile solo in alcuni paesi, tra cui se non sbaglio Romania, Canada, Australia e pochissimo altro. Quindi noi andremo ad installare, purtroppo solo per Android, non ho procedure testate per quanto riguarda iOS, quindi se hai un dispositivo Android, tablet, cellulare e quant'altro, ti spiegherò come andare ad effettuare l'installazione gratuita e poter già giocare in anticipo alla nuova versione di FC Mobile. Chiaramente la beta significa che tutto ciò che maturate attualmente non verrà portato nella versione definitiva, quindi si ripartirà da zero al rilascio del nuovo update ufficiale. Il primo passo ragazzi sta semplicemente nel download e l'installazione del file APK. Per chi non lo sapesse il file APK è il file di installazione di un'applicazione per dispositivi Android. Quindi cosa dovete fare? Semplicemente andare nel link che trovate in descrizione e vi ho messo il link al download dell'app di EA FC Mobile Beta. Per installarla dovete aver attivato la possibilità di installare applicazioni da origini sconosciute. Se ciò non l'avete fatto trovate semplicemente un tutorial su Google e molto banalmente si trova tutto nelle impostazioni del telefono. Non vi crea nessun danno, nessun problema, semplicemente potete installare app che non vengono scaricate dal Play Store. Altrimenti ci sono anche applicazioni all'interno del Play Store che vi permettono di installare un file APK senza che dobbiate andare a toccare le impostazioni originali del telefono. Passaggio numero due, una volta che avete installato correttamente l'app, che vedete l'icona, prima di andare ad avviarlo, perché come vi dicevo, l'accesso alla beta è disponibile solo per determinati stati, quindi non l'Italia, quindi se voi apriste l'app di FC24 Mobile sul vostro telefono con connessione italiana, non funziona. Quindi potete usare una qualsiasi app gratuita per andare a utilizzare una VPN. Personalmente avevo installato già PowerVPN Pro, che trovate nel Play Store, trovate varie applicazioni per fare VPN e connettervi chiaramente ad una delle nazioni che hanno accesso alla beta. Io ho scelto il Canada, come vedete lo screen di destra è quello che riguarda l'app dove io scelgo la regione Canada ed è disconnesso, quello di sinistra è dove sono collegato e mi dà conferma che risulto essere connesso dal Canada. Ed ora, come si suol dire, le je le sont fait. Cosa vuol dire? Vuol dire che aprite l'app di EAFC Mobile, dopo un breve download chiaramente di alcuni file aggiuntivi dell'applicazione, potrete aprire direttamente l'app. Una volta che avete aperto l'app, avete effettuato, completato la registrazione o effettuato accesso come ospite, potete anche continuare a giocare disattivando la VPN. Quindi dovrebbe funzionare anche senza la VPN attiva. Qualora doveste avere problemi, mantenete attiva la VPN e continuate a giocare. Qua vedete degli screenshot, per esempio, del mio avvio. Ho fatto alcune prove, ho giocato un po', ho fatto i primi tutorial, eccetera, e ho ottenuto le prime carte Ultimate Team. E così mi sono creato il mio primo club in FC Mobile 24. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a lasciare un commento se avete dubbi o volete chiarimenti, o qualcosa non vi funziona correttamente. Direi che l'unico modo per ringraziarmi potete farlo gratuitamente. Vi basta, innanzitutto, mettere un like al video, iscrivervi al canale YouTube, lasciare un commento per un ringraziamento, semplicemente, e se vi interessa la compra vendita per FC24 su console, PC, Xbox, Playstation, eccetera, qua a destra, alla mia sinistra ma alla vostra a destra, vedete un piccolo banner che vi dice Entra nel canale Discord, adesso è gratis. Puoi entrare anche tu nel nostro server in vista di FC24, perché troveremo tante, tante novità da portare assieme. Grazie per la compagnia, ragazzi, spero di essere stato utile. Un saluto e alla prossima. Ciao!